Ciao ragazzi, io sono Carolina e bentornati sul mio canale. Se non mi conoscete già una pagina su Instagram che parla interamente di Formula 1, ve la lascio qui e benvenuti invece sulla mia community di YouTube, sempre di Formula 1. Oggi, come sapete, come ogni lunedì, andiamo a commentare insieme la gara che si è appena conclusa al Gran Premio di Siria, Red Bull Ring, ancora una volta prima di spostarci al Gran Premio di Ungheria questo weekend. Andiamo ad assegnare, a vedere e ad analizzare le prestazioni dei piloti e anche le prestazioni delle scuderie. Ma prima di partire con tutto ciò, voglio lanciarvi una domanda, una domanda subito per partire in quinta, come si suol dire. Perché? Perché vi ricordate che tempo fa Fia aveva avuto, aveva annunciato, aveva fatto delle dichiarazioni appunto che aveva paura e si era parlato di Gran Premio doppio, il secondo alla rovescio, circuito alla rovescio, insomma, si era parlato di diverse opportunità. Perché? Perché Fia aveva paura che il secondo round, nello stesso Gran Premio, nello stesso circuito, scusatemi, potesse essere un po' piatto, cioè appiattire quello spettacolo da portare poi a casa le persone che guardano la Formula 1. Secondo me questo Gran Premio di serie non è stato elettrizzante tanto quanto il primo, ci sono stati dei momenti morti, sì, qualche sploie con dei corpo a corpo interessanti ci sono stati, lasciamo stare Ferrari i primi giri che poi andremo ad analizzare tra pochissimo, però forse un po' monotono, monotono anche dal fatto che i team, stando sullo stesso circuito per due settimane, hanno anche modo di capire meglio la vettura, di capire come si muove, come si gestisce all'interno di questo tracciato in particolar modo e quindi riescono a fare dei setup azzeccati o setup quasi tutti semplici, uguali e quindi vanno a togliere un po' quello smalto che piace a noi vedere in gara, quelle strategie particolari, quei rischi che di solito i team si prendono per cercare di tirar fuori qualcosa e di portare a casa prestazioni e punti, quindi voglio chiedervi innanzitutto se a voi il Gran Premio di serie è piaciuto e se invece l'avete trovato come me un pochettino moscio ogni tanto. Detto questo, prima di partire voglio anche farvi vedere un fan fact che mi ha fatto morire da ridere, vi metto qua il video, ovvero del, ne avevamo visto di ogni, sapevamo che il covid aveva portato delle modifiche all'interno delle gestioni, del podio, non podio, per i piloti, ma chi si aspettava un robottino a dare la coppa ai piloti? Io non me l'aspettavo proprio e qui mi ha fatto molto ridere, quindi mettiamo qua il video di quando Hamilton, Verstappen e Valtteri Bottas hanno preso la coppa, quella coppa che Bottas l'ha presa proprio al volo, altrimenti gli cadeva e finiva al fine mondo, però carina questa cosa della FIA e lo utilizziamo oggi come fan fact. Un gran premio di Styria che si è concluso in quegli equilibri che sono tornati come quelli di una volta, sto parlando appunto del dominio Mercedes 1-2, in prima posizione ha chiuso, scusatemi, Lewis Hamilton, tornato super grintoso per la voglia di quel settimo titolo, in seconda posizione ha chiuso Valtteri Bottas e in terza posizione ha chiuso l'olandese Max Verstappen. Passiamo quindi a dare i famosi voti, voti che sia i team che i piloti sono voti soggettivi, è importante soltanto il voto serve per cercare di far capire se è stata una prestazione positiva o negativa, quindi ognuno di voi avrà un voto personale che darà a ogni pilota, a ogni scuderia. Io direi di partire con la Ferrari, c'è poco da dire, io direi di fare un minuto di silenzio per la scuderia italiana perché ha fatto il botto in tutti i sensi, dopo parleremo in maniera approfondita e in maniera singola, singolarmente appunto di Charles Leclerc e Sebastian Fett per lo scontro che c'è stato al primo giro, ma focalizzandoci un attimino sulla scuderia e sulla macchina, sugli upgrade e non upgrade e quello che è successo anche questo weekend in Siria, andiamo a capire meglio un voto che è 3. 3 perché ho dato 3? Perché innanzitutto partiamo un attimo dal botto che c'è stato, lo scontro tra i due piloti Ferrari, uno scontro che non doveva essere, non doveva esserci, a 360 gradi, anche perché in questo modo non solo portano a casa 2-0, non solo non ha senso perché i piloti non si stavano combattendo per la prima e la seconda posizione per il lotta per il campionato, ma si stavano cercando di battere per l'undicesima, dodicesima, tredicesima posizione, quindi non aveva assolutamente senso dal momento in cui la gara era appena partita, ma dopo andremo a strigliare Charles Leclerc per le orecchie. Ferrari il rosso perché? Perché ancora una volta purtroppo, mentre ci sono gli altri team che cercano di portare upgrade o comunque non portano a casa zero e di conseguenza portano in fabbrica feedback e dati e risposte per cercare di capire dove le loro monoposto sono, dove sono i limiti del loro posto e cercare di andare a lavorare in quella direzione, Ferrari in questo modo non è riuscito a farlo perché hanno fatto di tutto per portare dei nuovi pacchetti prima dell'Ungheria, eravamo in Styria, li hanno portati, qualifiche bagnate, quindi non sono riuscite a portare a casa nessun tipo di feedback, alla domenica di gara che era asciutto potevano davvero cercare di iniziare a capire in che andazzo muoversi e c'è stato quello che è successo, gli altri team fanno passi in avanti e loro ancora rimangono lì senza capire perché la loro macchina non funziona, una macchina che non ha motore, Ferrari non ha assolutamente motore, quando non hai motore il pilota stai nel dritto e non vai, fai davvero fatica a cercare di estrapolare delle belle prestazioni da una monoposto che non va fondamentalmente, problemi di motore ma problemi anche aerodinamici, è una SF1000 forse di un progetto che non funziona, cioè è stato proprio un progetto sbagliato in principio rispetto a una SF90 dell'anno scorso che ha avuto difficoltà all'inizio della stagione ma poi ha trovato il suo modo per far vedere, anche grazie ai piloti, anche grazie a Charles Clark, di far vedere e dimostrare di che pasta erano fatti, una SF1000 che non funziona, un progetto sbagliato e io continuo a dire che ve l'ho detto in tanti video, anche su Instagram se non mi seguite appunto seguitemi perché vi aggiorno tutti i giorni con dei video, è importante capire perché tutti i motorizzati Ferrari non vanno, Alfa Romeo che non è riuscita a nervare neanche nelle Q2, entrambi i piloti chimirai con Antonio Giovinazzi, quelle macchine che hanno il muso largo, hanno tutto il muso stretto, i motorizzati Ferrari hanno un muso largo e casualità non vanno, è un progetto proprio si vede sbagliato, non lo so, sta di fatto che vogliono portare un qualche upgrade in Ungheria, ma sicuramente la situazione è davvero critica a mio parere, non bisognerebbe forse in Ferrari ai vertici ritornare ad avere qualcuno con le redini in mano che non permette a una scuderia come Ferrari di avere queste prestazioni perché noi ricordiamo che è che non va, ma se la fa in battaglia, diciamo in gara, con team da centro griglia, McLaren, Renault, Racing Point, Alfa Tauri, che non sono, perdonatemi con tutte queste squadre, però Ferrari è un top team, potrebbe farsela con Mercedes, al massimo Red Bull, ma con Mercedes, perché quello è il livello, anche perché se la fa con dei team che hanno la metà del loro budget, cioè Ferrari per il budget che ha non può permettersi, per la storia che ha, per l'immagine che ha nel mondo, non può permettersi queste figure ripetitive nei weekend. Male, ancora una volta, non sono arrivati al Q3, questa volta è stato Charles Leclerc, il rosso, tutto, completo, voto 3 per Ferrari. Passiamo quindi ad analizzare i due peloti Ferrari, Partiamo con Charles Leclerc, che a mio avviso per il Gran Premio di Siria prende e porta a casa un 4, negativo, molto negativo, perché 4? Perché se noi guardiamo tutto il weekend, ok, è una macchina inguidabile, difficile, non va, non funziona, mettete tutto quello che volete, però partiamo al sabato, è stato dietro a Seb in qualifica e sappiamo che Leclerc rimarrà in Ferrari, però Seb se ne andrà, non dico che deve stare davanti a Seb, però è rimasto dietro Sebastian. Ha preso le tre posizioni di penalità, quindi partito quattordicesimo, per quella cosa che è successa con Kvyat, che gli ha ostacolato il giro di qualifica, quindi parte dal dietro, ok, aveva tanta voglia di portare a casa punti, era molto ansioso, nonostante sapesse delle condizioni della sua monoposto, e in quella curva, al primo giro, tampona e fa un macello con Sebastian Vettel, tutto a colpa sua, non negativo, perché? Perché forse è preso dalla voglia di rimonta, preso dalla voglia di strafare, ha strafatto a 360 gradi. Ci sta, è giovane, l'abbiamo elogiato tante volte, questa volta ha sbagliato, ci può stare, l'hanno fatto in tanti, l'ha fatto Hamilton, l'ha fatto Max Verstappen per anni, questa volta l'ha fatto lui, purtroppo coincidenza in un momento dove Ferrari davvero non aveva bisogno di questi due zeri da portare a casa, dove sia per il campionato, ma anche, ripeto, per tutti quei feedback che avevano bisogno di portare a casa in fabbrica per poi lavorare in quelle direzioni. Quindi, assolutamente negativo, bravo perché Charles ha chiesto scusa, ha detto che era stata completamente colpa sua, amareggiato, e speriamo che si riprenda mentalmente pronto per il Gran Premio di Ungheria questa settimana. Mentre, per quanto riguarda Sebastian Vettel, voto 6, ma non perché è stato un fenomeno, voto 6 perché sicuramente riderà sotto i baffi per tutta la settimana. Dico questo perché? Perché lui, sufficienza tiratissima ragazzi, tirata, 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 però lui in qualifica è stato davanti a Charles Leclerc, il famoso predestinato. Hanno fatto lotta lotta tutta la scorsa stagione, gli è rimasto davanti, e soprattutto perché forse per la prima volta non è stata colpa sua. Cioè, lui non è stata colpa sua, lui stava facendo il suo, e Leclerc si è buttato in un punto dove non c'era spazio. Quindi, consapevole che sì, anche lui darà uno posto limitato, però 6, e sicuramente si porta a casa il 6 con il sorriso. Andiamo ad analizzare invece l'altra faccia della medaglia, ovvero Mercedes. Quella Mercedes che è paragonata a Ferrari, non c'è il paragone. Cioè, il paragone non può, non regge, perché Ferrari porta upgrade, ma la stessa macchina dell'anno scorso, anzi peggiorata, Mercedes porta innovazioni, porta nuovi sviluppi importanti, tante che vengono copiate anche dagli altri, gli altri li stanno per copiare. Sto parlando del DAS, sto parlando di tante altre cose che consentono a Mercedes di continuare questo dominio. Una volta ancora, al Gampremo di Stiria, come tanto ha fatto l'anno scorso, durante la stagione, hanno portato a casa il P1 e il P2 1 e 2. Mercedes, dominio pazzesco di questa stella nera, che domina in continuazione nell'era ibrida della Formula 1. Ottimo lavoro, e se voi vi ricordate, durante la qualifica, gli onboard di Lewis Hamilton. È assurdo come Charles Leclerc, che cercava di manovrare questa macchina inguidabile, mentre la stella nera ed argento, diciamo così, di Lewis Hamilton era ferma, era stagna. Sicuramente Hamilton è un fenomeno sul bagnato, ma ha anche una macchina super prestante e lì pronta per essere utilizzata, che è una macchina che c'è, esiste e ti dà solidità, forse, ti dà davvero quel feeling che ti porta ad andare oltre. E Lewis Hamilton così è fatto, quindi per Mercedes assolutamente il voto è 9. E lo stesso 9 lo darei direttamente a lui, al re, indiscusso, attuale di Formula 1, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, spinto, come sappiamo, da tutte quelle voglie di rivalza, di settimo titolo, di battere tutti i record, di superare Michael Schumacher, uguagliarlo con lo spirito di superarlo. Lui che ha fatto qualifica, giro pazzesco. Il bagnato lo ama, lui che è inglese ed è abituato a queste temperature, lo ama. Ha dato un secondo e mezzo al suo compagno di squadra Valtteri Bottas, che non è poco perché Bottas è uno molto forte, lo vediamo come Scudiero ma è un pilota molto forte. Lewis Hamilton che in gara aveva un passo che gli altri, questo passo se lo sognavano, infuocato, strepitoso, fantastico nelle prestazioni e coronato così il podio con il pugno in su in onore di quella protesta che lo vede protagonista in prima fila da diverse settimane a questa parte. Spostandoci invece a Valtteri Bottas, io gli darei un da 7 all'8, perché da 7 all'8? È stato molto bravo Bottas in realtà, perché ha portato a casa punti, è un pilota molto solido. Nella scorsa gara se non ci fosse stato lui a podio, Hamilton non ci sarebbe stato e sarebbe stati meno punti per Mercedes. Quindi è molto bravo, però rispetto al suo compagno di squadra non c'è paragone. Ha superato Max con una buona strategia, quindi hanno fatto 1-2. Bravo Bottas, che comunque, prescindono da questo da 7 all'8, è lì lì. Sappiamo che la stagione è appena iniziata, però è lì lì, con Lewis Hamilton, quindi è molto interessante vedere quello che succederà in Ungheria. Passiamo a quella vettura che ha fatto discutere già da Montmelò e ha fatto discutere in tutte le settimane di lockdown. E sto parlando appunto della Racing Point. Alla Racing Point io darei un bel 8, perché c'è poco da dire, ragazzi. Copia o non copia di Mercedes ha subito, tra virgolette, un reclamo da parte di Renault. Il reclamo che è stato accolto da parte della FIA per andare ad indagare sulla proprietà intellettuale del progetto RP20 di questa macchina rosa. Probabilmente di Mercedes, sì, no, forse, non si sa. Sicuramente la connessione è molto stretta tra Racing Point e Mercedes, c'è tra Lanza Strolli e Toto Wolf. Però Racing Point è molto tranquilla. Hanno fatto delle dichiarazioni dicendo, guarda, noi siamo molto tranquilli per il reclamo, perché prima di partire con la stagione abbiamo fatto vedere tutti i documenti a FIA e quindi siamo molto tranquilli. Lo vedremo. Sta di fatto che hanno fatto un'ottima prestazione. Prestazioni che è stata più difficile in qualifica, perché probabilmente avevano un assetto più da bagnato, più da gara. Durante le qualifiche è piovuto tanto. Quindi una gara molto positiva per loro, per entrambi i piloti, sia per Perez che per Stroll. Andiamo a vedere Perez. Perez che ha fatto un'ottima gara. Io gli ho dato un bel 9 a Perez. Super meritato, perché ha fatto dei bei sorpassi su Sainz all'esterno, quando ha fatto quel team radio dicendo, ti è piaciuto? Super smargiasso. Lì è stato molto, molto smargiasso. Ma ci sta, ci sta. Se l'è goduta quella prestazione che l'anno scorso non aveva, e di conseguenza se l'è goduta, peccato per lui, col contatto di Albon, Albon che si trova sempre lì, sempre nelle stesse circostanze e condizioni, ovvero anche Albon, vabbè. Peccato per lui di Perez, dicevo, perché negli ultimi giorni ha avuto questo contatto che gli ha poi rovinato l'ala, si è spezzata l'ala, insomma ha avuto un problema con l'ala e di conseguenza è stato poi sorpassato gli ultimi giri da Lando Norris e quasi quasi non veniva sorpassato sia da Stroll che da Ricciardo, se non sbaglio. Quindi peccato per questa cosa che è successa, però ha fatto un'ottima, ottima, ottima prestazione. Spostiamoci invece al figlio di papà, come lo chiamiamo noi, Lance Stroll. ha fatto una gara buona, carina, non inconfrontabile con Perez, per questo gli ho dato un 7, però buona, ha fatto dei bei sorpassi, una bella bagarre tra Ricciardo, Norris, credo ci fosse anche di mezzo. Buona, ha concluso dietro Perez, poteva sopraarlo appunto per questo problema che Perez aveva all'ala, però sì, vai, io gli do un 7, Stroll, che se lo tenga stretto perché non so quante volte altre ricapetterà, però 7. Passiamo invece in casa Red Bull, un ottimo lavoro svolto dall'olandese Max Verstappen, Mad Max Fury Road, per lui un voto 8 e mezzo, 8 e mezzo perché è stato l'unico ad avere il passo di Lewis Hamilton, o comunque a cercare di tenere il passo di Lewis Hamilton, in generale delle Mercedes, tant'è che è arrivato terzo sul podio, ha fatto un'entrata nei box assurda, ha cercato di fare un undercut su Lewis Hamilton, è uscito richiedendo poi al box, siamo sicuri di questa strategia, però è stata così, strategia che poi non ha pagato, vedremo poi perché, ma lui è entrato al limite ai box, e i ragazzi della Red Bull fanno un ottimo lavoro con cambio gomme, sono super fast, gli hanno fatto questo P-stop velocissimo, lui è rientrato, però purtroppo è stato beffeggiato così, da Valtteri Bottas, da Woodman, perché hanno fatto in Mercedes un attacco su Max Verstappen, quindi Bottas è riuscito a superarlo per queste gomme più fresche che aveva rispetto a le gomme super usurate di Max Verstappen, che ha detto che la macchina deve andare più veloce, perché se no così non riescono a neanche avvicinarsi a Mercedes, diverso è, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo, per Albon, Albon ha fatto una bella gara, sì, però per lui sei e mezzo, sei e mezzo perché? Perché il gap con il suo compagno di squadra Max Verstappen è stato troppo, troppo, troppo grande, Max si è visto che aveva una marcia in più, e purtroppo ragazzi, sì, Albon ha la macchina, sì, un po' sfortunato anche lì con Perez, però ragazzi, se hai di fianco un Max Verstappen e vai molto meno di lui, c'è poco da fare, Max l'ha completamente eclissato. Concludiamo la nostra pagella piloti e scuderie, con la McLaren, quindi Lando Norris e Carlos Sainz, andiamo da Lando, no, anzi, andiamo prima da McLaren, una McLaren che buone prestazioni, forse un po' in difficoltà, nei primi dieci giri di gara, gli altri avevano grip, loro facevano fatica, faticavano davvero tanto, probabilmente per un assetto più da qualifica che da gara, ma soprattutto lunghi hippie stop, troppo, troppo lunghi, sia per Lando Norris, ma soprattutto per Carlos Sainz, quindi passiamo da Lando, Lando gara 9, 9 perché Super Lando è partito quest'anno nella stagione 2020, in maniera fantastica, meravigliosa, lui che è riuscito ad essere il momento giusto al posto giusto, perché aveva buon grip, è riuscito a superare Perez, Perez in difficoltà, bellissimi duelli con Stroll, e Lando che ancora una volta in qualifica, è rimasto dietro a Sainz, ma in gara è stato davanti a Sainz, l'anno scorso ero un rookie, Sainz ha fatto una stagione quasi migliore di Norris, che era l'anno scorso più veloce in qualifica, ma quest'anno chi è che sta portando i punti davvero tosti? È Norris, occhio, perché lui è un fenomeno, quindi ha chiuso in quinta posizione, bravissimo, Norris, voto 9, Per quanto riguarda Sainz, voto 7,5, 7,5 perché negativo rispetto a quello che è successo a compagno di squadra, sicuramente ho beffeggiato dal team, che gli ha fatto un p-stop di 7 secondi punto 2, e che quindi ha dovuto ricostruirsi una gara, perché ha perso delle posizioni durante appunto il tracciato, e per lui è più difficile, però il problema è che arriverà in Ferrari, una Ferrari che non funziona, in questo momento però non è che sia partita benissimo, benissimo poi la sua stagione, quindi purtroppo per lui è un 7,5 che comunque rimane un bel voto, quindi ragazzi fatemi sapere voi nei commenti quali sono i vostri voti, perché avete dato un voto rispetto ad un altro, se Ferrari si riprenderà da questo disastro completo sottoterra, fatemi sapere se secondo voi si riprenderà in Ungheria, io vi aspetto, prossima settimana sempre qui su YouTube a commentare insieme, a dare le nostre pagelle piloti dei voti per il Gran Premio in Ungheria, anche se sarà questo weekend, e invece vi aspetto daily, come si suol dire i nostri appuntamenti daily, su Instagram, sul mio profilo Formula 1 with Carolina, con post, storie, news, flash news soprattutto, e live, per parlare insieme di questa stagione 2020 di Formula 1. Ciao ragazzi, io vi aspetto al prossimo video. Grazie. Grazie.